Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Che succede in Italia con questa lunga litania di morti sul lavoro? Come è possibile che accadano incidenti così gravi come quello di Torino di qualche giorno fa, dove tre giovani lavoratori hanno perso la vita per il crollo della gru che stavano montando? Dagli inizi di quest'anno sono più di mille i morti sul lavoro, un cimitero di guerra che circonda cantieri, edifici, impianti industriali, strutture tecnologiche che ogni giorno lo riempiono con qualche nuova bara. Possibile che il lavoro anziché essere lo strumento che dà vita e dignità alle persone, alle volte si trasformi nel loro becchino portando con sé lutti e dolore. Ogni qualvolta accade un incidente come quello avvenuto nel capoluogo piemontese, subito si alzano le solite voci ad invocare più controlli, più misure a tutela della sicurezza dei lavoratori, ma non sono le leggi a dover risolvere problemi come questi, ma la responsabilità degli uomini quando l'imponderabile non ci mette del suo. Tutto ruota attorno ad un mercato sempre più selettivo che affida i lavori al massimo ribasso, spesso ignorando la qualità dei manufatti e dunque anche le modalità con cui essi vengono realizzati. La fretta dei tempi e i necessari risparmi che gli affidamenti comportano per gli appaltatori portano ad abbassare la guardia, a ridurre l'attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a voltare qualche volta la faccia dall'altra parte. È il sistema economico nel suo complesso che produce queste situazioni e non è certo aumentando i controlli e le sanzioni o in asprendo le norme che alla fine significa anche maggiore burocrazia che gli incidenti sul lavoro potranno diminuire. Serve un salto culturale che vuol dire costruire un modello economico in cui gli affidamenti dei lavori e la loro esecuzione avvengano all'interno di confini chiari in cui ci sia equilibrio tra ciò che il committente richiede e ciò che l'affidatario è in grado di assicurare nei tempi e nei modi giusti e possibili. E accanto a questo cambio d'approccio i controlli dovrebbero essere più diffusi, mentre sappiamo che in Italia controllare è un puro eufemismo. Controllare non per punire o sanzionare è basta, ma per educare e spingere le ditte appaltatrici e ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie. Io non sono ottimista sulle cose che ho appena detto, temo che assisteremo ancora ad altre morti e ad altri lutti e tuttavia fino a quando non si affronterà il problema alla sua radice è difficile pensare che un problema come questo possa trovare una soluzione rapida ed efficace. Nel quartiere di Torre di Pordenone, con la conclusione degli scavi in alcune vie per la realizzazione della nuova fognatura e della sostituzione delle condotte e dell'acquedotto, a partire dal prossimo 24 dicembre verrà riaperta la circolazione stradale. Da giovedì 23 in via Zara verrà istituito il senso unico di marcia e così pure in via Fermi. In una seconda fase verranno installati i nuovi semafori in via Piave, all'altezza degli incroci con via Zara e via Sauro-Carnaro, così da semplificare le manovre di uscita da via Zara su via Piave. E' soddisfazione del senatore di Forza Italia, Franco Dalmas, sulla recente approvazione in commissione della proroga del super bonus per la ristrutturazione degli immobili e anche per il raddoppio da 5 a 10 mila euro del bonus per i mobili. Adesso, anche grazie alla proroga prevista per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, il super bonus potrà continuare a dispiegare i propri effetti trainando il settore dell'edilizia e l'intera economia italiana sulla via della crescita. Queste le dichiarazioni del senatore Dalmas. E' soddisfazione anche della consigliera regionale di Forza Italia, del Friuli Venezia Giulia, Mara Piccin, per uno stanziamento di 400 mila euro a favore delle gestanti, inserito grazie ad un suo emendamento nella finanziaria regionale del prossimo anno. Si tratta di una misura concreta di sostegno alla maternità e alla famiglia, continua la Forzista, non poteva restare simbolica, bensì doveva ottenere l'adeguata copertura finanziaria. Così, dopo il primo stanziamento di 50 mila euro insufficiente a garantire contributi individuali adeguati, Forza Italia ha prima presentato un ordine del giorno per ottenere dalla Giunta l'impegno a stanziare maggiori risorse che poi sono state integrate, come abbiamo detto, con questo ulteriore finanziamento di 400 mila euro. L'autonomia è un valore quando lo è per tutti, altrimenti calpesta la solidarietà, crea disparità e alla fine diventa un disvalore per tutti. Questo è il rischio che correrebbe la nostra ottima scuola qualora venisse regionalizzata, questo è il rischio che correrebbe il nostro Paese qualora venisse varata l'autonomia differenziata, frantumando lo Stato in 20 regioni secondo la più ampia interpretazione della riforma amata del titolo quinto della Costituzione. L'alarme è stato lanciato da Open Sinistra Friuli Venezia Giulia che ha promosso un'iniziativa pubblica insieme al Comitato Nazionale No Autonomia Differenziata rappresentato da Daniela Pez per Udine, Daniele Dovenna per Trieste e Antonio Madera per Bologna. Utilizzare invasi artificiali della Val Meduna come microstazioni turistiche rendere ancora più attrattivo il territorio è la proposta che il consigliere regionale Emanuele Zanon del gruppo misto Movimento Futura ha portato in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con un ordine del giorno approvato dalla Giunta regionale nell'ambito della discussione sulla finanziaria 2022. Nel documento Zanon chiede alla Giunta di prevedere un finanziamento per realizzare uno studio di fattibilità tecnico-economico da affidare alla comunità di montagna per la valorizzazione turistica dei bacini della Val Meduna. Piccoli interventi infrastrutturali e un loro utilizzo anche ai fini ricreativi e turistici rappresenterebbero una strategia di contrasto all'impoverimento socio-economico della valle, oltre a valorizzarne gli aspetti ambientali e paesaggistici, questo l'auspicio del consigliere Zanon. E dal 1 gennaio 2022 saranno i comuni della Conca Tolmezzina ad occuparsi della gestione dello sportello unico per le attività produttive. Con il nuovo anno, infatti, la competenza su questo servizio transiterà dalla comunità di montagna della Carnia agli uffici comunali e si affiancherà al già collaudato sportello unico per l'edilizia residenziale attivo dal mese di ottobre. La Conca Tolmezzina sarà dunque la prima a dare vita alla gestione associata comunale, concretizzando così l'indirizzo auspicato dalla Conferenza delle Regioni e dal Lanci. E per la stagione sportiva 2021-2022 il Comune di Cividale del Friuli comunica di aver confermato l'attivazione del bonus sport. Si tratta di un bonus di 50 euro, spiegano l'assessore alle politiche sociali Cati Abrinis e l'assessore allo sport Giuseppe Ruolo, per ogni figlio iscritto ad attività sportive per la stagione in corso, che sarà riconosciuto alle famiglie titolari di carta famiglia con figli fino ad età di 13 anni. Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito internet del Comune e deve essere consegnato entro il 27 dicembre all'ufficio Protocollo del Comune. Il Presidente Giovanni Muzzati, con una delegazione del Lions Club Pordenone e Naonis, alla presenza del Sindaco Alessandro Ciriani e dell'assessore alla politica e sociali Guglielmina Cucci, ha consegnato alla dirigente comunale Rossella Di Marzo 60 buoni spesa da 50 euro ciascuno che il settore dei servizi sociali del Comune distribuirà alle famiglie con figli minori o con disabilità che versano in difficoltà economiche e sociali. I buoni spesa sono stati raccolti dal Lions Club Pordenone e Naonis e dal Lions Club Porcia. Nel corso dell'asta seguita alla mostra, la solitarietà gira in tondo con l'esposizione di opere donate da 54 artisti del territorio. I buoni potranno essere spesi in beni alimentari e genere di prima necessità nei negozi COOP di Pordenone. La Polizia Postale ha suggerito alcuni consigli utili per accostarsi agli acquisti online in totale sicurezza. Informazione, uso della chat ufficiale, protezione dei dati personali, scelta dei sistemi di pagamento e di spedizione ufficiali e prediligere gli acquisti in siti che hanno valutazioni positive da parte degli utenti. Sono questi i consigli principali che la nostra Polizia Postale suggerisce per non incorrere nel pericolo di truffe o di sottrazione di dati personali. E in vista delle festività natalizie per questo weekend e per i prossimi giorni, Promo Turismo Friuli Venezia Giulia apre quasi tutte le piste e gli impianti nei sei comprensori regionali. Tutto aperto a Piancavallo e a Sella Nevea, dove è possibile sciare solo sul versante italiano e con un prezzo ridotto del 10%, mentre per utilizzare le piste della parte slovena sarà necessario acquistare un ulteriore ticket non potendo più usufruire del ticket unico. A Sappada sono accessibili le seggiovie Pian dei Nidi e Monte Siera, così come la sciovia Creta Forata, che si aggiungono ai campetti e alla pista nera serviti da due skillift e dalla seggiovia Eibencol dei Mughi. A forni di sopra sono accessibili tutti i tappeti e le seggiovie, oltre ai campetti, mentre a Sauris si può utilizzare la sciovia Richelan con la relativa pista, il tappeto campo-scuola e il pista campo-scuola a Sauris di sopra. Tutto aperto sullo Zoncolan, tranne Cimmatamai, come anche a Tarvisio, dove gli appassionati delle discese hanno a disposizione tutte le piste, ad eccezione dell'AA che rimane chiusa. In questa settimana il personale di Promoturismo Friuli Venezia Giulia è stato impegnato nei lavori di battitura delle piste a seguito dell'innevamento artificiale, mentre prosegue il controllo dei certificati in collaborazione con le forze dell'ordine e in corrispondenza dei principali punti di accesso. E come vi avevamo già informato, alla Casa Santa Lucia di Pasiano il centro commerciale Gran Fiume ha consegnato agli anziani ospiti della struttura i regali raccolti grazie all'iniziativa Natale con i nonni. Vediamo il racconto della giornata. Oggi siamo finalmente arrivati presso la Casa di Riposo Casa Lucia di Pasiano a consegnare i doni che abbiamo raccolto da parte dei nostri clienti per gli anziani ospiti in questa meravigliosa struttura. Io lascio la parola ovviamente alla coordinatrice Orsola che così vi racconta anche a lei un po' le emozioni di questa giornata che per noi è il coronamento di un progetto. Buongiorno a tutti, ringrazio Marta per averci coinvolto in questo progetto e cosa posso dire? Vedere lo stupore e la felicità dei nostri nonni nel ricevere un pensiero che viene dall'esterno sicuramente rende questo Natale, che non è tanto diverso dall'anno scorso, un po' più speciale. Come ho già detto a Marta e come ho accennato, per me vuole essere solo l'inizio di altri progetti futuri perché l'empatia non è una cosa che si compra e noi siamo ben lieti di accoglierla ogni volta che loro vogliono onorarci. Quindi ti invito a promuovere altri progetti e noi qui siamo felici di avervi accolto e le nostre porte per loro sono sempre aperte. Certi che senza il lavoro di una comunità esterna che ci supporti non possiamo resistere né alla pandemia né nel poter regalare giornate speciali ai nostri ospiti. Insieme si fa sempre la differenza e sono contenta che oggi siamo qui per poterlo dimostrare. Maria, cosa pensi di questa giornata? Una bella giornata, dei regali, sono contenta di essere qua, di tutte le belle cose che mi hanno regalato quest'anno. Ti aspettavi che arrivasse Babbo Natale? Sì, perché ne aveva dita, ma sono tutti gli anni, ieri ho fatto un paio di calzetti e basta. Quindi quest'anno sta contenta. E quindi lo invitiamo anche l'anno prossimo? Sì, vieni, a certi commentieri. Fai gli auguri di Buon Natale a tutti. Sì, Buon Natale a tutti quanti. Saranno il dottor Maurizio Mascherine, l'area giovane del Crodiaviano, Mirella Burel e Alti Nescerai, entrambi di Pordenone, i premiati con la stella di Natale della Pro Pordenone. La cerimonia si terrà come di consueto il prossimo 26 dicembre nel Duomo con Cattedrale di San Marco. E domani sarà presentata a Trieste la riedizione del romanzo scritto dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberne, pubblicato 25 anni fa dal titolo L'ultimo contratto. Il libro, ormai trobabile nelle librerie, è stato rieditato dalla goliardica editrice di Trieste e il raccavato dell'autore verrà devoluto in beneficenza. La presentazione del volume avrà luogo alle ore 18 presso l'antico Caffè San Marco di Via Battisti, 18 a Trieste, nel corso di una conversazione con la giornalista Laura Buccarella. Il libro, che nei prossimi giorni verrà presentato anche a Udine e Pordenone, è in vendita nelle principali librerie della regione. Proseguono gli eventi di Natale a Tolmezzo. Tante sono infatti le iniziative che hanno animato il centro cittadino sabato e domenica scorsi a partire dal primo mercatino di Natale della Porta di Sotto con una selezione di prodotti agroalimentari delle aziende affiliate al Filo dei Sapori e oggettistica per il Natale. Nelle stesse giornate sono stati organizzati alcuni incontri letterari. Sono intervenuti gli scrittori Emanuele Facchin, Gabriella Bucco e Stefania Conte che hanno preso parte anche alla presentazione del giallo gastronomico Il Frico, come non l'hanno mai raccontato insieme a Paolo Morganti, Fabio Piuzzi e Nicola Schert. Domenica, a fare da filo conduttore, sono stati racconti di streghe, folletti, agane e beneandanti nel salotto letterario magico della Porta di Sotto con gli scrittori Paolo Morganti, Stefania Conte e la ricercatrice Antonella Peressini. Nella corte del Museo Carnico Gortani è stato inaugurato il presepio, progettato dallo scultore Stefano Comelli, La Carnia, aspettando San Pietro 2022. E le calciatrici del Portogruaro Calcio Femminile perdono in casa del Trento per una rete a zero. Vi mostriamo le immagini dei momenti salienti dell'incontro montate da Gabriele Zoia con il commento di Davide Gasparotto. Il Trento per proseguire la propria marcia dopo la vittoria di una settimana fa in casa dell'Atletico di Oristano, il Portogruaro invece per dare seguito al pareggio di una settimana fa contro la Vis Civitanova, migliore per quanto riguarda la prestazione che per quanto riguarda il punteggio finale, 1-1 con Reti di Battagliotto e Piscitelli. L'inizio è abbastanza equilibrato, occasione qui per il Portogruaro con Furlanis che di sinistro impegna Valzolger, inizio equilibrato, non si vedono le molte posizioni di differenza tra le due compagini, Portogruaro si schiera con il suo classico modulo da quando è arrivato Giancarlo Maggio in panchina e Trento che però, trovate le misure alla mezz'ora, va in vantaggio. Cross, partito dalla sinistra, si inserisce a fare i spenti Tononi e infila Comacchio con il piattone 1-0 per il Trento, quarto gol in campionato per la classe 2000 dopo quelli messi a segno contro Iesina, Venezia e Triestina, dunque seconda squadra della provincia di Venezia a cui segna Tononi, ha un buon feeling dunque con la Laguna si accende poco dopo Rosa, dribbling su Matiz e destro trova la parata, la garella di Comacchio con il piede, rivediamolo qui dalla camera retroporta la parata di Comacchio sul primo palo la più grande occasione per il Portogruaro al 44esimo Furlanis superata Valzolger ma Lenzi al limite dell'area piccola la disturba e non trova la coordinazione giusta a Furlanis il primo tempo si conclude sull'1-0 per il Trento con le immagini di Gabriele Zoya andiamo nella ripresa, cross dalla sinistra del Trento girata di Erlicher, la numero 9, cerca il gol ma la sua palla esce di poco fuori e Rosa poco dopo pericolosa in contropiede lancio in campo aperto, superata Scudeler ma Comacchio in due tempi blocca il pallone un Trento che dunque prova a chiudere la partita poco dopo con la conclusione dalla lunga distanza da parte di Fuganti di poco alta e ancora Rosa, la numero 10, pericolosa in avanti con questo tentativo di Lob con il destro si spegne a poco dalla traversa rivediamo qui la giocata da parte di Rosa ancora la numero 10, protagonista poco dopo uno contro uno con Minutello doppio passo, lei dà solo il sinistro lei va a prenderselo conclusione con il bancino Comacchio attenta sul primo palo il Portogruaro adesso prova a trovare il pareggio è più propositiva la squadra di Giancarlo Maggio nella seconda parte di secondo tempo addirittura il Trento fa cambi difensivi per poter gestire la situazione qui la conclusione di Gasci su punizione si spegne di poco alta altra parata da parte di Valzolger che blocca un traversone dalla sinistra Portogruaro non riesce a sbloccare l'1-0 finisce qui, un saluto da Davide Gasparotto e con questa ultima notizia di sport cari amici di Media24 si chiude qui il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione, del vostro ascolto e con affetto vi auguro un in alto i cuori grazie a tutti